What day a tutti c'è ormai e benvenuti raggiarini in questo nuovissimo video avete capito dal titolo ragazzi che si tratta di un video unboxing quest'oggi vi andrò ad unboxare quello che è stato il regalo da parte della mia mamma praticamente o perlomeno il regalo che è stato reso possibile dal regalo che mi ha mandato la mia mamma so che è un po' contorto però insomma adesso vi spiego praticamente ragazzi mia mamma mi ha mandato dei soldi in regalo per il mio compleanno e mi ha detto facci quello che vuoi comprati qualcosa che ti piace appunto per il tuo compleanno insomma sarà tipo la decima volta che lo ripeto e quindi così è stato non era stato previsto nel senso che non avevo minimamente pensato al fatto di comprare questa cosa anche se effettivamente ci ho buttato l'occhio da un pochino di tempo vi dirò la sincera verità fatto sta che le cose si sono combinate perché tra l'altro il prezzo di quello che sto per farvi vedere era stato ulteriormente abbassato quindi già era in offerta quando l'avevo visto un pochettino di tempo fa quando sono andata ieri in negozio mi sono ricordata così per caso insomma che ero interessata a questa cosa l'ho rivisto lì e ho visto che il prezzo era stato ulteriormente abbassato quindi rientrava praticamente nella mia possibile spesa ebbene sì ragazzi si tratta della Chins Edition di Nino Kuni 2 per PS4 ragazzi quindi si tratta ovviamente della Collector's Edition per PS4 potete un attimo rendervi conto di quanto è grossa sta scatola e potete credermi sulla parola se vi dico che pesa anche un po' vi mostro brevemente la scatola qui ragazzi questa è la parte di davanti come potete vedere qui c'è tutto questo disegno meraviglioso qui sul lato c'è la scritta Nino Kuni 2 qui sull'altro lato c'è il resto insomma del disegno che c'è davanti e ovviamente qui dietro ragazzi madonna vediamo che viene ovviamente fatto vedere tutto il contenuto di questa Chins Edition quindi c'è ragazzi un vinile delle musiche del gioco la steelbook quindi sarebbe a dire la custodia in metallo con il gioco completo ovviamente lo vedete di qua c'è a quanto pare questo carry-on diciamo che è alto tipo 20 cm e quindi a quanto pare fa suonare la musica di tema insomma del gioco quello che è c'è un artbook della bellezza di 148 pagine e in più c'è il season test vabbè poi qua sopra insomma ben tornato in un altro mondo non c'è scritto molto altro e qua sotto insomma ci sono scritti tutti i contenuti ovviamente di questa Chins Edition non so se li vedete vabbè se mi metti a fuoco magari grazie andiamo ad unboxare a vedere cosa c'è qui dentro eccoci qua ragazzi non so se mi vedete bene vabbè poco importa perché l'importante è vedere questa insomma io per aprire le scocciature uso il coltello perché il taglierino è troppo retro poi ci sono tutti gli scotch ancora ragazzi segno ovviamente che questa Collector's Edition è rimasta intatta quindi non è stata aperta da mani luride ed estrane e ci sono sia sopra che sotto di scotch rendiamoci conto ecco fatto avevo dimenticato di farvi vedere la parte lì sotto vabbè dove c'è semplicemente scritto Nino Kuni ragazzi ok adesso sfiliamo via il cartoncino questo eccolo qua ragazzi che è solo di rivestimento ovviamente lo poggerò qui e qui c'è la scatola che è veramente meravigliosa anche questa raga come potete vedere davanti c'è lo stesso disegno del cartoncino che abbiamo appena sfilato qui sul lato c'è questo disegno e qui sul retro c'è quest'altro disegno andiamo ad aprire questo scrigno del tesoro oh che cavolo madonna ragazzi allora questo è il coperchio guardate quanto è spesso allora appena aperta la scatola ragazzi si vede questa cosa questo disegno meraviglioso che già uno dice wow ho fatto bene a comprare questa collector's edition si è aperto oh mio dio oh mio dio ragazzi che quando si apre guardate si fa così sale sul cartoncino non so se lo vedete bene ragazzi è una cosa fantastica va bene e sapete quei libri tipo per bambini che apritano e si formano le immagini è la stessa identica cosa non so se lo vedete bene ragazzi è una cosa meravigliosa allora qua c'è una linguetta che a quanto pare ok serve per sollevare tutta sta roba ragazzi che pesa tipo l'ira di dio ah qua dentro c'è il vinile che stupida che sono adesso io ho pure paura a tirare fuori sinceramente eccolo qua madonna oh mio dio è una cosa meravigliosa anche questa e questo è il vinile ragazzi cioè sono senza parole veramente è una cosa fantastica questo ovviamente se uno ha la fortuna di avere il giradischi insomma può ascoltarsi la musica su questo coso meraviglioso non so se rendo l'idea davanti c'è il disegno e dietro c'è scritto ovviamente che brano che brani ci sono ce ne sono due ok allora qua poi la prossima cosa che ci troviamo di fronte è l'artbook che mio dio è gigantesco è grande quanto la grandezza della scatola ragazzi potete vedere che è gigantesco davanti c'è questo disegno dietro è tutto nero 148 pa pesa ragazzi non potete immaginare quanto pesa magari poi vi faccio una ripresa di qualche disegno ok sicuro avrete visto qualche ripresa ragazzi è meraviglioso perché ci sono i disegni di tutti i personaggi dei mostri dei veicoli è una cosa fantastica procediamo perché qua la prima cosa che ovviamente ci troviamo di fronte ragazzi è il gioco nella sua custodia ovviamente ci sono tutte sempre le linguette potete vedere ragazzi per tirare fuori perché giusto sotto il gioco ci hanno messo la steelbook ovviamente quindi qua c'è il gioco che ovviamente è incelofanato wow e qua sotto c'è la steelbook ragazzi che è meravigliosa anche questa è qualcosa di indescrivibile adesso probabilmente non vi potrete manco tanto rendere conto di quanto luccica sta cosa infatti ho paura pure a toccarla ragazzi è qualcosa di meraviglioso all'interno della steelbook ci hanno messo il making of del gioco perché questa era una cosa che avevo dimenticato di dirvi che c'è all'interno perché c'è il making of del gioco e dietro le quinte e qui ci sono anche delle cartoline ragazzi che non avevo visto ci fossero sinceramente sono tre cartoline però insomma è sempre una cosa in più che non pensavo ci fosse sinceramente sono bellissime come potete vedere all'interno ragazzi ci sono due vani per due dischi quindi magari se uno ci vuole mettere il gioco e qui c'è il making of insieme e qui ragazzi credo sia l'ultimo contenuto non so se riuscirò a tirarlo fuori spero di sì il carillon di cui vi parlavo che di regola è il pezzo forte di questa collector's edition vediamo se riesco a tirarlo fuori senza far danni quindi faccio prima fare così andiamo ad aprire il carillon che come potete vedere la scatola è tutta disegnata ragazzi anche questa e qua sotto c'è scritto attenzione non è un giocattolo andiamo ad aprirlo urlo di tamburi perché sono emozionatissimo ok qui c'è una mano estranea wow vediamolo madonna io non lo tocco sto coso probabilmente poi vi farò riprese negli tagli ma è una cosa bellissima bellissima c'è queste due orecchie sopra che sono fantastiche e le decorazioni dentro veramente indescrivibile wow no veramente non so che dire ragazzi perché uno dice vabbè non è tanto grande però se uno deve guardare nel suo piccolo come è bello poi tra l'altro la musica al carione è fantastica quindi si che è la sound team insomma del gioco stesso quindi ha ancora più valore questo è poco ma sicuro io ovviamente per adesso lo otterrò a sicuro dentro la sua plastica perché per adesso purtroppo non credo di poterlo esporre quindi preferisco che sia a sicuro dentro la scatola questo è poco ma sicuro vi ho mostrato tutto quello che c'era all'interno di questa King's Edition di Lino con i due ragazzi e direi che per il prezzo che l'ho pagata ragazzi ne basta veramente la pena perché vi ho già detto prima che era in sconto rispetto al suo prezzo originale quindi ne basta sicuramente la pena sono prezzi che uno magari quando trova in offerta ha la possibilità, ha l'obbligo tra virgolette di comprare perché sono cose uniche e bellissime poi tra l'altro perché veramente ha dei contenuti fantastici quindi che dire grazie di nuovo alla mia mamma le mando un bacione gigantesco grazie anche a Rodrigo che è qua perché quindi grazie anche a lui perché mi ha aiutato a comprarlo e quindi è stato un bellissimo regalo di compleanno che era totalmente inaspettato perché come avevo detto nel video che ho fatto su sliterio di compleanno quest'anno non avrei ricevuto regali insomma prima di tutto in primis per mia scelta però è stata una cosa totalmente inaspettata quindi è stata ancora più bella questo poco ma sicuro quindi che dire ragazzi questo unboxing termina qui grazie a tutti io vi mando un saluto un bacione e a tutti ragazzi ciao vi ricordo ragazzi che se volete questi anti-aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni ciao ciao